Ti ha dipensato? Un altro po'. Salve caro, salve! Come stai? Non preoccupare, ne ho già uno qua voluto per te. Per i fusi, A, S, M, R Ciao, dimmi! Sì, sì. Ho chiamato quella persona? Bene, 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 ok. Ah, un attimo. Un attimo che ti devo stampare una cosa. Sei qua che arrivo subito, ok? Arriva subito la stampa. Adesso te la stampo, ok. Bene. Tutto bene e te? Come è andata la settimana? Bene, mi fa piacere tesoro. Mi fa piacere. Mi fa molto piacere. Ecco qua. Tieni. Grazie, grazie. Ci vediamo. Grazie, ci vediamo dopo. Sì, sì, andiamo a pranzi insieme dopo, ok? Sì. 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 Giorgia, dimmi tutto. Come? Scusa? Non ho capito. Ma dai! Ci hai pensato? No? Ah niente, devi organizzare l'incontro, sai. Per stasera, subito, prima che cambi idea. No, 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 assolutamente stasera. Sì, però, fallo venire nel gran hotel, quello in centro, New York. Sì, quello in centro. Sì, quello dell'altra volta. No, sai, ascoltami Giulia, ascoltami. Lo sai che a me piace cambiare, ok? Sì, dopo cena, fammelo vedere dopo cena, sì. Ordinerò una bottiglia di champagne. Bene, ma com'è stato? Ma t'ha detto? T'ha detto perché ci hai ripensato? Eh... No, lo capisco, capisco, l'aumento di stipendio. Ho un'occasione che non puoi rifiutare. Eh sì. Bene, bene, tesoro. A che ora me lo fai mandare? Alle 10 di stasera, tesoro, certo. Ma certo me lo mandi. Grazie, grazie, Giulia, grazie. Bene, bene, bene. Stasera gli farò fare una bella seratina. Oddio, sono contenta che abbia cambiato idea. Mamma mia, oddio, come sono contenta, dai. Stasera mi tiro tutta. Mi tiderò sicuramente. Lo aspetterò con ansia. Oddio, non vedo l'ora che arrivi. Mamma mia. Che serata splendida ci sarà stasera. Non vedo l'ora. Aspetta che mi vado a ritoccare il rossetto. Non vedo l'ora che arrivi. Andiamo a spruzzarci un po' di profumo. Un altro po'. Così va bene. Molto bene. Oddio. Sono emozionantissima. Chi potrà essere? Sì. Sì, direttore, sì. È arrivato. Bene, me lo mandi pure su, grazie. No, l'ho giardinata la bottiglia di champagne tranquillo. È già qua in fresca. Grazie. Oddio, sta arrivando. Oddio. Non vedo l'ora. Aspetta che mi pompo un pochino. Sta arrivando. Eh sì. Allora. Non vedo l'ora, non vedo l'ora. Allora, ho preparato il contratto qua. Eccolo qua. Pronto da firmare. Avanti. Salve, caro, salve. Come stai? Appena arrivato, tesoro. Sì, sì, ho voluto. Sai che a me piace cambiare ogni tanto. No, l'altro hotel ogni tanto. A me piace cambiare perché sai, sono viziata. Come vedi? Ti piace? La mia maglietta. Ho deciso di optare di un outfit molto aggressive per aiutarti meglio. Allora, caro, com'è andato il viaggio? Bene, ok. Ci dai perché non c'è mal tempo stasera. la serata è splendida. Molto serena. Allora, caro, cosa ha detto la tua famiglia? Hai cambiato idea, sì, vero? No, non riesci a riduciare la proposta che ti ho fatto, vero? Soprattutto per quello stipendio e tutte le agevolazioni. Lo so, lo so. Lo so che ti avevo strappato il contratto. c'è un'altra cosa che ti ho fatto. Soprattutto per te. Lo devi solo filmare. Tieni, caro. Soprattutto per te. Soprattutto per te. Le cibi della firma. Ok. Lo metto qua. Ecco. Caro, allora, sono sicura che stasera sarà una bellissima sedata che trascorreremo insieme. Ci faremo qua anche le feste di Natale e Capodanno. Sì, io ti voglio qua perché ho già organizzato una festa con tutti i nostri colleghi e tu sarai al mio fianco. Guarda, chi ne dici se prendiamo? Iniziamo già a festeggiare, tesoro. Ho preso uno champagne millesimato. Molto, molto bello. Vieni, caro. Bene. Allora che ne dici? ti brindare al nostro primo incontro. Salute. Buonissimo, vero? Ne immaginavo che ti piacesse. è veramente buono succoso. Bene, sono contenta che ti piaccia questo vino. È un champagne millesimato. La vedi? Guarda quanto è carina questa bottiglia. Il blu, poi, è il mio colore preferito. Ma togliti quella giacca, tesoro. Dai. Accomodati. Mettiti comodo, tesoro. Hai visto che bel letto che c'è di qua? Ti piace, vero? Con il nostro camionetto. Sì, sono sicura che sarà una serata romantica. A tutti gli effetti, non ti preoccupare. Il nostro segreto resterà tra noi. Bene, caro, inizia ad accomodarti, che io arrivo subito. Allora, voglio bere un altro pochino di champagne. E poi arrivo da te. Bene. Ciao. Ciao.